Istruzione, formazione e lavoro sono tre cardini delle politiche adottate nel 2018 dalla regione Toscana tra le cui priorità anche per il 2019 resta al primo posto la costruzione di una connessione sempre più stretta tra scuola e inserimento nel mondo del lavoro. Punto di partenza resta la lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico a cui la Toscana anche nel 2018 ha inferto un duro colpo. Noi abbiamo chiamato la nostra azione nel piano di sviluppo regionale successo formativo quindi l'obiettivo numerico che ci eravamo dati era proprio quello, è misurabile, era proprio quello della riduzione del tasso di abbandono. Bene, oggi abbiamo la soddisfazione di dire che siamo la regione in Italia che su questo dato ha avuto i risultati migliori perché siamo passati da risultati che addirittura nel 2012 il tasso era al 17% e il dato nazionale al 17,6% quindi in linea col dato nazionale. Bene, nel 2017, quindi l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, il tasso è sceso al 10,9%. Considerando che l'obiettivo di Europa 2020, l'obiettivo europeo è del 10% possiamo dire che su questo fronte oggi la Toscana è una regione pienamente europea quindi in linea assolutamente con la media europea. E poi ci sono i NIT, cioè i giovani che non studiano né lavorano e che rischiano per questo di trovarsi in una condizione di esclusione sociale. Anche su questo fronte nel 2018 i numeri sono calati sensibilmente. Anche qui una cifra importante perché vuol dire far diminuire quasi del 35% il numero di ragazzi che non studiano e non lavorano e non si formano, quindi fuori da tutti i percorsi. Anche qui oggi siamo a poco più del 17 e quindi anche in questo caso siamo la regione che ha avuto dei miglioramenti, che ha fatto i progressi migliori. Quindi questi sono due dati da cui partire vogliamo andare avanti su questa linea, però sicuramente anche questi da comunicare. Ma istruzione in Toscana significa partire dalla prima infanzia, cioè dalla fascia di età tra 0 e 6 anni, che sull'esempio toscano anche a livello nazionale è passata di recente sotto legida del Ministero dell'Istruzione. Tre principali risultati raggiunti in materia di diritto allo studio, poi c'è l'erogazione in anticipo rispetto al passato del pacchetto scuola, la misura pensata per aiutare le famiglie degli studenti nell'acquisto di libri e materiale didattico, un'inversione di tendenza rispetto al passato, quando i contributi arrivavano solo quando l'anno scolastico volgeva al termine. Siamo riusciti nell'anno scolastico corrente a liquidare entro ottobre, quindi abbiamo anticipato tantissimo e l'obiettivo per l'anno prossimo è di riuscire a pagarli prima dell'inizio dell'anno scolastico e ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Quindi questa credo che sia una cosa importante. Abbiamo raggiunto tutti quelli che hanno fatto domanda, quindi chiunque rientrava nei requisiti stabiliti dal bando ha avuto il contributo e questo per le famiglie che sono in difficoltà credo che sia importantissimo. Per mettere in connessione scuola e mondo del lavoro in Toscana è nato il modello delle alleanze formative, cioè la creazione di reti efficaci a livello locale capaci anche di promuovere tra i giovani lo spirito imprenditoriale e di avviare alla ricerca di una professione. L'investimento maggiore è stato fatto sull'alta formazione con gli ITS e gli FTS che nell'ultimo anno hanno visto partire molti corsi per formare tecnici specializzati che le imprese cercano. Scuole, organismi formativi, imprese, mondo delle professioni insieme per partire da quello che è il fabbisogno formativo oggi e anche in prospettiva per come cambierà il mondo del lavoro e insieme per coprogettare gli interventi. Quindi anche questo per noi è un punto fondamentale. L'apprendimento permanente, una rete che stiamo costruendo tassello per tassello. Abbiamo fatto nel 2018 un protocollo importante sull'individuazione, la validazione, la certificazione delle competenze, anche quelle conseguite in ambito non formale e informale, quindi attraverso esperienze di vita e di lavoro, con un protocollo con la Camera di Commercio, quindi anche con le imprese per il riconoscimento. Abbiamo il progetto Scuole al Centro dove tutti i nostri ragazzi vanno ai centri per l'impiego nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro per conoscere meglio il mercato del lavoro, quindi insomma un'attenzione sicuramente importante a tutto quello che è il ponte, la fase di transizione fra scuola, università e mondo del lavoro. Proprio sul fronte del lavoro il 2018 è stato l'anno della nascita di Arti, l'Agenzia regionale Toscana per l'impiego, che ha raccolto i centri per l'impiego della Toscana. Dal 2018 i centri sono passati definitivamente sotto legida della regione Toscana ed è passato anche tutto il personale, quindi dalle province. Quindi un processo, dicevo, di rafforzamento importante. Abbiamo preso 423 dipendenti, di cui 100 erano a tempo determinato precari, li abbiamo stabilizzati tutti ed è importante investire sui centri, se ne parla tanto anche per la funzione che dovranno avere per il reddito di cittadinanza, ma comunque il ruolo strategico all'interno del mercato del lavoro. Possiamo veramente essere soddisfatti dell'indagine indipendente che è stata fatta rispetto al grado di soddisfazione degli utenti e delle imprese per i nostri servizi al lavoro, perché l'82% degli intervistati, sia fra utenti, quindi disoccupati, giovani che si recano ai centri per l'impiego, sia per le imprese, si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto dei servizi ricevuti. Sul fronte delle politiche attive per il lavoro, poi, la Toscana ha investito quasi 7 milioni e 200 mila euro su tutto il territorio regionale per incentivare le imprese all'assunzione dei lavoratori, modulando l'incentivo sulla base della stabilità del rapporto di lavoro. Con quali risultati? I posti di lavoro garantiti in questo modo, che sono nati, sono stati 1.309, quindi quelli che siamo andati a finanziare. Quindi un intervento importante. Su tutto il territorio regionale abbiamo finanziato incentivi per l'assunzione di donne over 30 e di disabili. Nelle aree di crisi, invece, abbiamo fatto interventi anche per i giovani laureati, per i soggetti svantaggiati e per i disoccupati di lunga durata e disoccupati over 55. Quindi un intervento composito, ma che ha dato risposte molto, molto importanti in termini di numeri. Tra le misure di politica attiva per incentivare il lavoro e le assunzioni attuate dalla Toscana, c'è anche il cosiddetto PIO, il Piano Integrato per l'Occupazione. Anche questo dovremmo comunicarlo molto di più, perché questo ha rappresentato uno stress test per quello che sarà poi il reddito di cittadinanza. È una politica composita, perché consisteva in un beneficio economico di 500 euro mensili, in una politica attiva e un incentivo all'assunzione anche qui. Bene, abbiamo raggiunto 7.000 beneficiari, naturalmente tutti molto distanti dal mondo del lavoro, l'85% disoccupati di lunga durata e la maggior parte di questi disoccupati da più di 36 mesi. Il risultato è molto soddisfacente, perché 2.136 persone sono state avviate al lavoro, cioè hanno avuto un contratto di lavoro più oltre 200 tirocini. Quindi una cifra importante. Di questi contratti, 250 a tempo indeterminato, perché ho contratti a tempo indeterminato o contratti di apprendistato che sono pure a tempo indeterminato. Le misure attuate dalla regione per incentivare la ricerca del lavoro non si fermano ai confini regionali e nemmeno italiani. Alcune infatti sono proiettate sulla formazione all'estero di chi non ha un lavoro, come nel caso di EURES. EURES rappresenta un'azione che praticamente va ad allargire delle borse ai disoccupati per l'internazionalizzazione, cioè per fare delle esperienze, dei tirocini all'estero e per aumentare le competenze. Anche qui abbiamo investito nel 2018 quasi 600.000 euro e abbiamo erogato 200 borse EURES. E per il 2019 quali sono le priorità della Toscana? Da un lato una sempre maggiore integrazione tra istruzione, formazione e lavoro e dall'altra la comunicazione delle opportunità disponibili. Noi chiameremo tutte le nostre politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro LIFT, cioè lavoro, istruzione, formazione e transizioni. LIFT è un acronimo che ci piace perché in inglese vuol dire ascensore e vuol dire anche innalzare. E allora attraverso queste politiche noi vogliamo andare a rimettere in moto, cercare di rimettere in moto l'ascensore sociale che purtroppo nel nostro paese Italia si è fermato. Quindi questo è un obiettivo irrinunciabile se si vuole mantenere non solo la competitività ma anche la coesione sociale nella nostra regione e nel nostro paese. LIFT vuol dire anche innalzare e quindi noi vogliamo, come dire, rendere più alto il posizionamento delle nostre politiche della regione toscana su queste materie. Quindi continuare a seguire con attenzione tutti i tavoli di crisi, lavorare sulle politiche attive e sull'alta formazione proprio perché solo guardando in alto possiamo affrontare la grande sfida del cambiamento del mercato del lavoro che ci attende. Grazie a tutti.